Qualche settimana fa è entrato il secondo robot nella farmacia oncologica dell'IRST per la preparazione delle terapie oncologiche, un secondo robot identico a quello che fu installato nel 2011. Questa è stata la prima importante azione conseguente a un piano di sviluppo che l'Istituto ha progettato per la realizzazione della farmacia unica oncologica della Romagna. La facility di questa nuova farmacia unica della Romagna sarà realizzata entro il 2020-2021. La posa della prima pietra è stata effettuata il 16 aprile dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La produzione della futura farmacia unica della Romagna sarà di circa 90.000 allestimenti all'anno che saranno consegnati nelle varie oncologie dell'area vasta Romagna. L'automazione è stata una scelta che il nostro istituto ha già effettuato nel 2011 per la farmacia oncologica e che sarà una delle caratteristiche principali della nuova farmacia, anche della Romagna. Per quanto riguarda l'introduzione del secondo robot, in questo periodo sarà eseguita una fase di test per poter ottimizzare quella che è la produzione della lavorazione di due robot in modo simultaneo, ma nello stesso tempo viene anche utilizzata per l'attuale produzione della nostra farmacia in quanto un unico robot non era più sufficiente per l'attuale produzione. Il vantaggio di questa tecnologia, dell'automazione, è dovuto anche al fatto che, gli utilizzatori di questa tecnologia, quindi sia a livello nazionale che a livello internazionale, propongono al produttore eventuali migliorie o sviluppo proposte che poi verranno appunto condivise e messe in pratica dal produttore, dalla Luccioni. La farmacia unica della Romagna sarà caratterizzata da una forte automazione dei processi, in quanto sarà presente una robotizzazione anche del magazzino, oltre alla robotizzazione dell'allestimento delle terapie oncologiche. L'altra caratteristica fondamentale sarà la realizzazione di una radiofarmacia in GMP, che sarà autorizzata AIFA, che ci permetterà di allestire radiofarmaci sperimentali in terapia e questo sarà anche la radiofarmacia, sarà un riferimento unico a livello nazionale. Nel 2011 nella farmacia oncologica dell'IRS abbiamo fatto la scelta di orientarci verso la preparazione automatizzata degli allestimenti oncologici. Questa scelta è stata fatta innanzitutto nell'ottica di garantire il più possibile la sicurezza degli operatori tecnici, che in questo modo non sono impiegati per tutto il loro turno lavorativo nell'allestimento dei farmaci oncologici, che per loro natura sono rischiosi per la salute. Ma una volta che abbiamo introdotto questo tipo di automazione, abbiamo anche voluto analizzare tramite uno studio la possibilità di allestire le terapie oncologiche nelle due diverse maniere, quindi nella maniera manuale utilizzata fino a quel momento e ancora utilizzata per alcuni tipi di farmaci, e la maniera automatizzata. Questo studio ci ha permesso di osservare come effettivamente, tramite l'utilizzo dell'automazione, è possibile impiegare per produrre lo stesso numero di allestimenti un solo operatore tecnico che assiste ovviamente la macchina che è proposta alla produzione. In questo modo, oltre a garantire la salute degli operatori, è stato possibile per noi anche impiegare in modo più virtuoso gli operatori tecnici, che in questo modo non sono quindi impiegati per tutto il loro turno lavorativo all'allestimento manuale, ma possono prendere parte anche ad altri lavori per loro anche più interessanti, come per esempio la collaborazione in studi clinici, nella gestione del magazzino, e anche nella progettazione, nella conduzione di studi, di progetti di ricerca. L'altro aspetto molto interessante che riguarda l'allestimento automatizzato è la possibilità di avere la massima evidenza sulla qualità di ogni singolo allestimento che viene preparato in farmacia oncologica, tramite la possibilità di stampare per ogni allestimento un report dove c'è l'indicazione della correttezza delle materie prime in ingresso, la correttezza dell'allestimento anche dal punto di vista quantitativo del farmaco tramite un sistema di pesatura, e la correttezza del giusto diluente e del materiale in uscita. Un ultimo aspetto per noi molto interessante è il fatto che tramite la collaborazione con l'azienda produttrice del robot, che è la Luccioni, e tramite anche la collaborazione con la rete degli altri ospedali che utilizzano lo stesso tipo di tecnologia, di studiare e di poter lavorare in macchina anche gli ultimi farmaci recentemente entrati in commercio, quindi farmaci altamente innovativi e farmaci anche altamente costosi che oggi possiamo lavorare tranquillamente in macchina e per i quali possiamo anche ottimizzare l'aspetto economico riducendo il più possibile la quantità di farmaco che inevitabilmente viene scartato quando la prescrizione non coincide con il confezionamento del farmaco stesso. Grazie per la visione!